Amici, il 3 febbraio e il martedì sarò al Teatro Puccini a Firenze, Tempio della Comicità, con il mio spettacolo Mi saluta Cristiano Militello La serata è a favore dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, che si batte egregiamente, direi, per sensibilizzare la società, ma soprattutto i giovani, sui temi della sicurezza stradale Vi aspetto a teatro, compatibilmente con i vostri impegni, ma sono sicuro che comunque ci aiuterete, quantomeno, a spargere la voce Mi saluta Cristiano Militello, io vi saluto, venite a salutare anche me, ciao